Quello che mi ha spinto ad iscrivermi in GetFit è il desiderio di mantenere la salute e la salute va mantenuta facendo lo sport. GetFit è il luogo adatto in assoluto. Io essendo cantante lirico ho i colleghi che fanno mezz'ora di vocalizi prima di cantare eccetera eccetera. Io dopo l'allenamento in palestra esco fuori e subito faccio il mio la naturale essendo baritono se non avrei fatto do di petto naturalmente ma il mio umore con esco fuori veramente ti viene da cantare di felicità perché quando mi dicono quanti anni hai dico sempre sempre quanto ho bisogno oppure come stai sempre come voglio io. Iscrivetevi in palestra perché non è perdita di tempo è proprio mantenere la salute e migliorare la vita psicofisica assolutamente. Meglio spendere un po' in meno in ristoranti la sera eccetera eccetera e spendere per iscriversi in palestra perché i benefici si vedono fino all'ultimo stai piedi sorridente. Sìììììììì